25 novembre giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne un appuntamento molto partecipato quest'anno a Pesaro in questo momento ci troviamo nei portici del palazzo comunale e soltanto in questo luogo ci sono tre installazioni di tre diverse associazioni che hanno voluto testimoniare la loro sensibilizzazione verso questa tematica abbiamo appunto un'iniziativa dell'Udi con le scarpette rosse a monito contro la violenza sulle donne l'iniziativa del CIF di Pesaro che ha distribuito dei ciclamini per sensibilizzare appunto la tematica delle rose bianche attaccate al pavimento qui dei portici comunali un'installazione realizzata dal liceo artistico Mengaroni in questa occasione hanno distribuito alcuni ciclamini rossi a tutte le donne e i passanti che questa mattina si trovavano in piazza ricordando questo momento la violenza alle donne che deve essere comunque debellata in qualsiasi modo anche se ancora oggi vediamo soprattutto in questi giorni soprattutto nell'era del covid è ancora molto diffusa giornata contro la violenza di genere 2021 celebrata anche in forma artistica due mostre inaugurate questa mattina due mostre correlate una allo spazio Sora di via Rossini con le scarpette blu in ceramica a enfatizzare la causa delle donne afghane parallelamente le scarpette rosse in ceramica sparse per le sale dei musei civici sotto i capolavori di Palazzo Mosca due opere realizzate grazie all'azione dei maestri ceramisti pesaresi per tante iniziative davvero in questa giornata contro la violenza sulle donne tanta partecipazione davvero sia dell'associazione ma anche dei cittadini che telefonano anche negli assessorati per chiedere laddove ci sono iniziative per poter partecipare quindi vuol dire che c'è questa apertura questa sensibilità verso le tragedie che stanno cadendo purtroppo nelle case in alcune case del nostro paese dove la donna subisce questi soprusi tanto da arrivare ai femminicidi non è solo una questione di una notizia che passa e va come succede spesso con le notizie così efferate ma si tratta proprio veramente di uno sdegno verso quello che sta accadendo un paese che si dichiara civile deve fare il possibile e l'impossibile affinché queste cose non accadono più c'è bisogno di formazione, facciamo formazione, c'è bisogno di eventi, c'è bisogno soprattutto di vicinanza perché dobbiamo ripristinare il concetto del rispetto dalle scarpette alle sedie rosse come quella del posto occupato inaugurata il giorno precedente alla biblioteca oliveriana fino ad una panchina rossa quella che questa mattina è stata pitturata nel parco di via Frescobaldi in una iniziativa dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti e del quartiere di Villa San Martino alla presenza di una delegazione degli studenti della Deacente Istituto Comprensivo e della dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale Alessandra Belloni è un evento un po' particolare il nostro innanzitutto perché è in concomitanza con tutte le nostre associazioni in tutta Italia quindi in questo momento in ogni città si fa questo evento io sono convinta che il futuro se vogliamo sconfiggere questa piaga dobbiamo partire dalla scuola ma non tanto dalla scuola superiore ma proprio dalla scuola da questi ragazzi delle scuole medie perché sono loro che devono sconfiggerla sono loro che devono entrare e formare le proprie coscienze perché la violenza sulle donne dico che è un perfetto esempio di inclusione sociale perché è una violenza che non ha diversità è comune a tutti gli strati sociali è comune a tutte le comunità e colpisce dove vuole non ha rispetto per nessuno quando Benedetta Bedini dell'Unione Cechi mi ha proposto questa iniziativa ho fatto il possibile come quartiere per realizzarla entro oggi 25 novembre una data importante la panchina è un segno un segno che dà un messaggio chiaro al centro del quartiere nella nostra Agora e che in questo quartiere non c'è spazio per chi usa violenza contro le donne violenza di ogni tipo sia fisica che psicologica anche economica ed è un punto fondamentale avere un segno chiaro che questo male va estirpato